Angelo Marino Angelo Marino è il portavoce del gruppo federato Caldoro Presidente, nonché autorevole esponente della fondazione Città Nuova che fa capo al presidente della regione Lazio Renata Polverini, esponente di spicco sul piano nazionale ma di fatti referente qui per la regione Campania unitamente al suo fratello maggiore Salvatore Ronghi, attuale segretario generale del Lazio e attualmente dirigente appunto nazionale di questa fondazione. Cominciamo subito, ed è questa nostra chiacchierata, il tema dell'ottima puntata del tacquino politico della Campania, cominciamo subito però con cercare di coniugare queste due cose. Come si fa ad essere portavoce del gruppo federato Caldoro Presidente e nello stesso tempo invece responsabile autorevole di una fondazione, non sarà un partito ma comunque è un movimento, un laboratorio di idee che comunque fa capo ad un altro presidente di regione che è quello del Lazio appunto Renata Polverini. Innanzitutto mi piace sottolineare il fatto che sicuramente io sono riferimento di mio fratello maggiore Salvatore Ronghi al quale riconosco anche la figura di leadership qui in Campania perché è la storia che gliel'ha consegnato e la storia che poi credo un giorno consegnerà anche a me per la battaglia e per le lotte che facciamo sia tutte le questioni di carattere sociale quindi credo che un giorno posso anche io forgiarmi di questo stesso merito così come adesso ce l'ha lui. Per quanto riguarda la posizione di portavoce del gruppo federato Caldoro in aula e la mia funzione di membro della fondazione Città Nuove io non ci trovo troppo a una grossa dissonanza, le spiego subito. Noi siamo stati eletti in una lista Caldoro presidente ma componenti di più parti politiche. Quando abbiamo capito che c'era una pressione forte di altri consiglieri regionali che volevano aderire a questo progetto di allargamento, di un allargamento della politica anche moderata abbiamo avuto la necessità di costituire questa sorta di gruppo che è un gruppo federato dove è necessario avere in ogni caso un portavoce. Sono state date le consegne a me in questo senso perché nel gruppo risulto in molti aspetti essere probabilmente una delle persone più equilibrate e una delle persone che riesce a cercare una sintesi all'interno di più posizioni politiche distanti a volte o anche da sistemare, da limare. Il gruppo federato nasce in ogni caso come gruppo per disciplina d'aula. Noi facciamo delle riunioni di gruppo allargato gruppo federato dove troviamo e cerchiamo di trovare una sintesi per i progetti di carattere legislativo che arrivano in aula così come le battaglie politiche che cerchiamo di fare in modo unitario. Spesso la unitarietà non la ritroviamo su alcuni principi generali, su alcuni tipi di battaglie e poi si leggono quelle che sono le dichiarazioni dei singoli consiglieri all'interno dell'aula. Ma molto più spesso invece riusciamo a ritrovare quell'azione comune perché una proposta legislativa possa realmente avere un carattere di speditezza all'interno dell'aula. Riusciamo a far fronte comune in quelle cose che noi crediamo, in quelle cose che abbiamo ragionato e abbiamo messo insieme. Non a caso il gruppo federato ha partorito una serie di progetti di leggi da portare in aula e su quelle leggi ci siamo divisi i compiti anche nelle commissioni perché il lavoro di un consigliere regionale diciamoci la verità, se lo vuoi fare veramente, lo vuoi fare per bene, è abbastanza faticoso. Devi ascoltare le parti sociali, devi ascoltare le persone, devi tramutare quelle che sono le idee in una proposta legislativa, poi la devi scrivere, la devi riportare nelle commissioni, convincere se è possibile o motivare almeno quanti più colleghi di più gruppi diversi ha che quella proposta ha è una proposta che può dare qualche soluzione a questa nostra regione, dopodiché quella proposta la devi riportare in aula e sostenerla con un'argomentazione politica. Chiunque gli addetti al lavoro sanno è un lavoro estremamente faticoso e spesso proprio per la frammentazione che c'è nei gruppi politici non si riesce a seguire questo tutto. Noi abbiamo deciso di metterci insieme e metterci insieme su quelli che sono i principi generali che passano attraverso una valutazione politica anche di gruppo. Questo non mi dà difficoltà, non me la dà perché sostanzialmente io ricerco e trovo all'interno di questo gruppo una mission che è abbastanza importante che è quella di aiutare la nostra regione ad uscire da questo periodo buio. Abbiamo detto che comunque ci sono due riferimenti concreti di questo lavoro che fanno capo diciamo ai due vertici istituzionali di due regioni, abbiamo parlato di Caldoria e abbiamo parlato della Polverini. Ecco è ipotizzabile in un qualche modo che questi due presidenti unitamente agli altri tra virgolette uomini di buona volontà possono in un qualche modo ricercare in questo momento dove la politica latita, dove le forze politiche non riescono più a raccogliere la testimonianza della gente, la testimonianza vive. Questi che sono espressioni di vertici istituzionali in un qualche modo possono mettersi assieme per cercare di recuperare questo gap sempre più ampio tra politica, cioè quindi tra paese regale e paese reale? A parte l'auspicio che ognuno di noi si pone, speriamo, il punto è che entrambi esprimono una linea politica abbastanza importante, però io dico e potrebbe essere questa una buona idea, perché non mettere insieme, fermo restando le posizioni che in certi versi e per certi aspetti possono anche essere considerate in modo diverso, perché non provare a fare la stessa esperienza che ha fatto il gruppo federato con questo binomio tra la Polverini e Caldoro, ritrovare quei percorsi comuni, quelle battaglie comuni che possono essere fatte, ma sui temi, io parlo su temi specifici e su quello poi misurarci con le altre forze politiche, perché a me non dispiacerebbe, visto che sono entrambi i presidenti che hanno un percorso politico anche diverso uno dall'altro, uno forse più sindacale, uno altro più da parlamentare, mettiamo così, però entrambi sentono e percepiscono le difficoltà della loro regione in un modo proprio abbastanza importante sulla propria pelle, questo farebbe sì che magari se si potesse mettere su un tavolo di concertazione di iniziative, mettiamola in questo modo, anche con gli altri presidenti di regione, sicuramente daremo delle risposte, io credo, estremamente importanti alle persone, perché ormai la legge elettorale ha condannato a questo distacco che è la classe deputatizia con i territori, i presidenti di regione, quindi da un lato il presidente Polverini, dall'altro anche il presidente Caldoro, gioco forza, sono impegnati tutti i giorni sui territori e sui territori sentono il peso delle difficoltà dei cittadini e quindi potrebbero anche in assenza in questo momento di una riforma elettorale che sembra che tutti vogliono ma nessuno la vuole fare, io sottolineo in questo passaggio solo che Città Nuove, la fondazione al quale mi sono iscritto e ho aderito qui in regione Campania è stata l'unica fondazione che ha aperto la prima breccia in questo senso, perché ha aperto gazebi, ha raccolto film, perché mentre gli altri le cose le dicono solo ma di fatto non le vogliono fare, basterebbe un semplicissimo emendamento approvato al Parlamento perché si potesse ritornare con una quota di preferenze, nessuno lo vuole fare, la fondazione si è assunto questo impegno, io chiederò personalmente a Caldoro, anche al presidente Caldoro di far aderire anche la sua componente in questo, perché se noi raggiungiamo questo che è l'obiettivo di riportare la politica sui territori, riportare il contatto politico tra la gente e quella che è poi la classe deputatizia che deve rappresentarla, io credo che anche i fenomeni come Grillo o altri che escono in questi giorni tra associazioni che si pongono semplicemente in un momento di antipolitica senza dare alternativa solo per cavalcare un'onda che in questo momento dice che i politici vanno tagliati via, se noi riusciamo a mettere insieme invece la nostra esperienza di consiglieri regionali che operano sul territorio e che di fatti sentono il peso del territorio con quella che deve essere la programmazione parlamentare per il prossimo anno, probabilmente avremo raggiunto innanzitutto un buon risultato che è quello che la gente può iniziare a riconsiderarci, a capire che chi veramente lavora ha diritto ad esprimere le proprie idee, lo fa nel modo migliore e soprattutto lo fa come sintesi di quello che è un'esigenza di un territorio che, ripeto, sia la regione campania ma uguale dicasi per la regione Lazio è stato per anni martoriato da una classe politica che io ritengo estremamente inadeguata a rappresentarlo. Bene, in bocca al lupo per le iniziative che la fondazione porrà in essere in questo lasso di tempo ma soprattutto per fare sintesi anche tra le diverse anime che pure insistono nell'ambito del suo riferimento politico in regione campania. A voi tutti grazie per essere stati in nostra compagnia. Taccuino politico della Campania tornerà lunedì alla stessa ora.